Io credo che sia un grande errore di cultura chiamare i Cinque Stelle un movimento populista. Il populismo è un movimento politico che ha una sua precisa identità storica e a me piace soprattutto ricordare il populismo russo della metà dell'Ottocento che ha portato poi alla emancipazione dei servi della gleba. E quindi come li chiameresti? Sono dei demagoghi esattamente come il loro omologo napoletano De Magistris. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.